Se da un lato sta per finire una pandemia sanitaria rischia di nascere e di continuare una pandemia economica e finanziaria perché gli impianti, i gestori non riescono a sopportare ulteriormente una situazione finanziaria ed economica molto pesante. Per questo il mondo del nuoto Veneto ha deciso di aderire all'iniziativa domenica 6 febbraio Piscine Chiuse, una protesta per lanciare un messaggio forte. Ormai la nostra gestione è in pericolo. Gli aiuti che ci hanno dato il Comune di Venezia sono stati importanti, ci hanno permesso di essere rimasti aperti. Altre piscine non ce l'hanno fatta ma siamo molto preoccupati per il futuro. Vorremmo che il Governo riprendesse in mano la possibilità da parte dei Comuni di rinegoziare le convenzioni in essere e di dare sostegni concreti per la parte energetica sia con interventi strutturali ma anche con interventi relativamente alle spese dirette. Chiediamo aiuti, chiediamo un salvagente per non annegare ma fatto questo chiediamo di più. Chiediamo che si pensi allo sport per quello che si dice. Tutti dicono dei suoi valori sociali, educativi, sanitari, preventivi. Tutti parlano bene del nuoto, adesso aspettiamo fatti, fatti concreti a livello nazionale e regionale. Bolletti alla mano, i costi sono lievitati e non si potrebbero sostenere nemmeno riuscendo a lavorare nuovamente a pieno regime. Con questo livello arrivano a superare il 60 e oltre per cento dei costi complessivi. In un bilancio di un impianto è assolutamente impossibile riuscire con i ricavi a ottenere il riequilibrio di questi costi. E aumentare abbonamenti e tariffe penalizzerebbe solamente le famiglie, senza contare che nelle piscine vige la sicurezza. Nella storia non è mai successo che sia stato individuato all'interno di un impanto natatorio un focolaio di covid. E questo è dovuto al fatto, alle attenzioni che noi abbiamo nella gestione, alla presenza del cloro nell'acqua nei nostri pianti che sembra essere riconosciuto avere un valore di difesa contro questo virus. Grazie. Grazie.